L'avvocato Lenzini si dà da fare perché una parte le prendono i piccoli azionisti, io le cedo io a piccoli azionisti. Quanto per cento? Saranno un 30-40%. Lo dà, lo mantiene questa cosa, la mantiene questa promessa? Ah, senz'altro, gliel'ho promessa all'avvocato Lenzini, gliel'ho anche sottoscritta. Ah, beh insomma. Quindi se lei vuol sentire l'avvocato Lenzini, lei gli do il rumore, lei celebra e lui... Senta, dopo si chiama, dopo si chiama. Senta... Ma se la vuol chiamare ora, gliel'ho anche ora. Dopo si chiama, adesso si finisce noi. Lei vede per esempio, ho qui un'altra lettera, un'altra lettera dell'avvocato Michele Gentiloni di Roma, nel quale afferma, perché mi avevano imputato di bancarotta della Nepi, addirittura, che è stata vinta, perché io sono stato assolto completamente, totalmente, cosa? Ora sono nelle condizioni di richiedere un risargimento così cospicuo, che lui dice oltre all'aspetto morale, le consentirebbe di richiedere allo Stato un risargimento particolarmente cospicuo. Infatti nel 1990 era stato imputato per 18 anni in relazione a tre capi di imputazione, associazione per delinquere e bancarotta fraudolenta, per i quali si è avuta sentenza assolutoria in conforme alla piena. Ritengo che il danno sia difficilmente calcolabile, ma certamente enorme. Questo è l'avvocato Gentiloni Silvestri di Roma, e questa qui è del 23 febbraio del 2009. Quindi d'altra parte siamo dietro a richiedere i danni allo Stato. Una domanda maleducata, mi scusi, però gliela devo fare. Un ragazzo di oggi che la vede e ha sentito parlare di lei, legge già di lei sui libri di storia, parliamoci chiaro, lei è già vivente ma è già storia. Grazie a Dio vivente ma è già storia. Dice, ma come ha fatto a Gelli a fare quei soldi? Come li ha fatti? Con la P2? Ma per carità. Cioè erano i soci che la pagavano? No, 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 io le rispondo subito. Io ho cominciato subito dopo la guerra a lavorare col Ministero dei Trasporti e con la FALC di Milano. Raccoglievo tutti i rottami delle ferrovie a quell'epoca e le facevo in permuta con la FALC. Io raccoglievo 6 kg di rottami e la FALC mi dava 1 kg di tondino. Mentre le ferrovie per i 6 kg, per i 6 kg, 4 kg erano di permuta con le ferrovie. Tra me le ferrovie c'erano 2 kg di utero, di guadagno. Ho capito, ma arrivare a quella cifra? Ma aspetta, io nel 1948 ho cominciato a comprare tutti gli appartamenti che aveva pistola. Il primo appartamento a mio figlio Raffaello, il secondo appartamento a Maria Rosa che ce l'ha ancora, appartamenti in pieno centro, il terzo appartamento per mia figlia e il quarto appartamento per Maurizio. Compravo, io li parlo di quell'epoca, perché guadagnavo l'ira di Dio. Io ho caricato anche 30 vagoni di rottami al giorno, a quell'epoca. La P2 quanto fruttava? No, la P2 non ha mai fruttato nulla. Non una lì. Non ha mai fruttato nulla e d'altra parte mi pare che non abbia bisogno di prove, perché durante lo svolgimento dello scandalo della P2, che oggi con il nuovo libro che ha fatto Mola, e questo è un lavoro di cinque anni, no no, Gelli e la P2. Facciamolo vedere. No no, è storia. Lui ha impiegato cinque anni di ricerche di archivio, che ha potuto dimostrare tutto quello che ci avevano accusato, per cui la legittimità della loggia marzone di Capitura all'obbedienza del Grand Oriente d'Italia e la regolarità della loggia marzone di Capitura inventata dall'Emmi nel 1895. Era del goi, mentre come dice Raffi, che la P2 sta, diciamo sì, come le brigate rosse al comunismo, io le dico invece, tu completamente dimostrato, che la P2 è stata quella che ha ridato la forza, e ha dato non solo la forza, all'istituzione massonica, ha aiutato anche il governo, eventualmente, anche il governo quando ne ha avuto bisogno, perché noi avevamo un potere notevole, anche all'estero. Chi è che le chiedeva aiuto? Tutti? Tutti ci chiedeva aiuto, a noi tutti ci hanno chiesto aiuto, e a tutti quelli che... Bisaglia, per esempio, Bisaglia, che d'altra parte era il ministro delle partecipazioni sociali. Quello che poi è morto nel lago? Eh, sì, è morto su una barca. Su una barca, che si dice che sia stato... Non si sa bene come. Aveva anche un fratello sacerdote. E prete, morto anche lui. Ma quello dopo è morto dopo. Dopo. Però sulla barca c'era Bisaglia e c'era una donna bellissima. L'ha bollati. Eh? Sì, sì, l'ha bollati. Va bene, non mi ricordo. Però lui, quando aveva bisogno, la Finseider, che era diretta dall'ingegnere Campana, Capanna, ebbe bisogno di materiale ferroso. Perché... Perché c'entra la P2? Ora glielo spiego. Aveva bisogno del materiale ferroso. E allora mi chiamò Bisaglia e mi disse, Senti, bisognerebbe noi avere, dalla Liberia, siccome so che vi siate legati con la Liberia, perché in Liberia la massoneria è talmente forte, che il palazzo massonico, il palazzo massonico della Liberia, è accanto a quello presidenziale. E c'ha, sopra il tetto, tutti i simboli massonici, altri qualcosa come due metri. Quindi io, se tu hai rapporti con la Liberia, conosci William Tobler, che è il presidente, e io gli dissi, dissi, sono andato, sono andato io a Morovia, parlai con il presidente, e dopo il secondo viaggio completai l'operazione e tutti i tedeschi furono cacciati. Per dieci anni lo sfruttamento dei materiali ferrosi alla Finseider. E il governo lo pagò con questo, perché il presidente William Tobler mi chiese una vacanza in Italia. Io gli feci fare questa vacanza in Italia a Stresa, all'hotel Borromeo. Lui è una trentina che facevano parte della corte, d'altra parte anzi è stato un gesto che doveva essere fatto. Questa è costata al governo, la vacanza del presidente all'hotel Borromeo e basta. Avete aiutato l'economia italiana. Certo, ma noi si aiutava senza... Se si può far capire in modo semplice. Ma senza tangenti. Sì, perché d'altra parte io viaggiavo allora come ministro premipotenziario dell'Argentina e quindi c'avevo i biglietti, potevo viaggiare con un tesserino particolare su tutti i ventiamenti degli aerei, senza pagare una lira. Senza... Senta, che tipo era Angelo? Scusi, Andreotti, le ha mai chiesto una mano? Ma, d'altra parte, questo non me lo ricordo, favore, può darsi ventamente che me le abbia chiesti e io le abbia fatte. Con Andreotti, per esempio, quando mi chiese lui di poter parlare con il presidente Peron, perché aveva parlato con il ministro dell'economia, e non era rimasto soddisfatto, lo portai io alla villa alla Quinta d'Olivo, che era la residenza estiva del presidente della... E una domenica nel pomeriggio per un colloquio per poter... relativamente ai rapporti tra l'Italia e l'Argentina. Io non so quello che si sono detti perché io restai con il vicepresidente Lima e fuori, e quindi, anzi, mi volevano far passare, no, 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 io non ho bisogno di passare, non ho bisogno di ascoltare quello che il governo può chiedere. Quello, anche quello, è stata...